E' stata presente oggi 20 gennaio 2018 nel sabato televisivo di Verissimo la simpatica conduttrice Alessia Marcuzzi che vi ricordo si prepara a presentare la imminente edizione dell'Isola dei Famosi, infatti tra pochi giorni inizierà. E si è parlato proprio di questo reality show con tanto di concorrenti che sarebbero già partiti per l'isola e pernoterebbero all'interno di un albergo, ma non sanno nulla delle telecamere della reality che li riprenderanno a loro insaputa. E cosa avrebbe detto in tal proposito la bella, brava e simpatica Alessia Marcuzzi? Le seguenti parole. Una settimana prima succede di tutto, i primi ciucci nascono in albergo quando non si è ancora davanti alle telecamere. Ed è proprio una delle novità di questa nuova edizione, oltre alla scatola di imprevisti, che come avrebbe detto Alessia Marcuzzi, renderà l'Isola molto alla Lost, come il famoso film, come la famosa pellicola. Però ci sarebbe stato, ci sarà anche tempo per parlare dei misteri che ci saranno in questa nuova edizione. Infatti l'Isola sarebbe popolata da fantasmi. I concorrenti di altre versioni di reality show in questione, infatti, avrebbero percepito la presenza di una ragazza. Infatti il famoso, sensitivo americano Craig Warwick, il miaro della legge Anna, avrebbe infatti già sognato il fantasma in questione. Vi ringrazio per l'ascolto, è stata davvero una presenza indimenticabile, quella di oggi, 20 gennaio 2018, avverissimo di Alessia Marcuzzi, la conduttrice dell'Isola dei Famosi 2018. Il video termina qua, e se i miei utenti di Youtube, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi. Se in tali video fossero presenti delle inesatesse, mi scuso, in quanto ho utilizzato il condizionale, quindi non rischio a nulla. Comunque, io ho detto come sarebbe stato detto e, diciamo così, diffuso. Grazie ancora, un saluto e al prossimo video.